L'Europa ha garantito alle regioni del Sud, grazie a parametri oggettivi, il 70% delle risorse del Recovery Fund. Per questo l'Italia ha ottenuto oltre 209 miliardi di euro. Il Mezzogiorno ha diritto al 34% delle risorse che l'Europa ci destina. Il Governo Conte non vuole garantire allo sviluppo del Sud neanche queste somme. Per questo, insieme agli altri Governatori del Sud, abbiamo chiesto all'esecutivo un confronto chiaro, aperto, leale, perché, come ha detto il Capo dello Stato, l'Italia riparte se riparte il Mezzogiorno.